Dal canile Lager di Molazzana al rifugio di Arezzo. È una storia fortunatamente a lieto fine, quella di questi sei cagnolini che adesso cercano famiglia. A maggio il canile nel comune della Garfagnana era stato chiuso e sequestrato perché abusivo. All'interno, in precarie condizioni, igienico-sanitarie, circa 70 cani. Gli animali erano stati così affidati al comune della cittadina in provincia di Lucca, ma erano troppi gli amici da salvare per il piccolo municipio. E così l'idea dell'appello agli altri sindaci della Toscana per adottare i cagnolini. A rispondere prontamente il comune Aretino che adesso ha colto al canile comunale gestito dall'EMPA sei cani, tutti di taglia medio-piccola. Siamo contenti che il comune ci ha dato l'opportunità di dargli una mano, anche noi ci siamo dovuti rimboccare le mani che non abbiamo potuto prenderne di più proprio perché in questo momento un'ala del canile manca, che ci sono i lavori, però grazie all'apporto dei volontari che dei dipendenti stiamo riuscendo bene a gestire questa cosa. I cani adesso sono seguiti ed accompagnati in un percorso di rieducazione dal personale specializzato dell'ente che ne valuterà il momento giusto per l'adozione. Come avete visto già sono molto migliorate alcuni di loro e devono fidarsi delle persone, solo che vivendo allo stato brado non hanno mai conosciuto guinzagli, non hanno mai conosciuto il contatto, non abbiamo un tempo, potrebbe volere settimane come mesi, però per ora le risposte sono molto buone.